ciao ragazzi e bentornati sul canale nuova recensione questa volta parliamo di fotografie questo prodotto che vi farò vedere mi è stato offerto da la la lab attraverso il sito ottuli di cui vi ho già parlato l'altra volta attraverso il sito ho potuto ricevere completamente gratuitamente delle fotografie bellissime da questo sito che si chiama la la lab la la lab è un'azienda che stampa fotografie album fotografici insomma tantissimi articoli loro hanno una un'applicazione che si più la la lab adesso vi lascio quale immagine per effettuare un ordine basta aprire l'applicazione naturalmente effettuare il registrarsi quindi effettuare l'accesso e poi carica scegliere il prodotto che volete ordinare e poi caricare le vostre immagini direttamente sul sull'applicazione potete addirittura aggiungere delle scritte fianco alle immagini adesso vi faccio vedere quello che mi è arrivato mi è stata data la possibilità di scegliere una tra diverse cose io ho scelto un set di 30 mini mini stampe vintage le chiamano e sono arrivate all'interno intanto di questo pacchetto con tutto scritto all'interno ci sono varie bustine vi faccio vedere subito intanto le foto perché sono carinissime sono troppo carine veramente sono delle mini mini istantanee che loro chiamano mini vintage sono di questo formato qua e sono praticamente il formato ideale da inserire nel portafoglio o comunque da tenere sempre con sé naturalmente non un pacchetto da 500 foto però se sia la possibilità insomma di averne 2 3 nel portafoglio sono veramente troppo carine io quando quando le ho viste sul sito ho pensato che fosse una cosa troppo carina io adesso ok forse riesco così a far bene vedere come vedete si può si può scegliere insomma di mettere una scritta con vari tipi di di calligrafia e io ho messo papà e matti qua eravamo una domenica abbastanza freddina siamo andati in spiaggia abbiamo fatto un po di foto infatti anche qua ho messo domenica insieme e questi siamo io e le mie bimbe stupende abbiamo fatto tante foto ve le faccio vedere alcune perché sono veramente troppo troppo carine e come vedete si possono inserire delle scritte a fianco che sono sono un bellissimo ricordo anche perché se voi vi ricordate prima dell'era digitale quando dovevamo sviluppare quei rullini assurdi in cui la metà forse anche l'ottanta per cento delle foto venivano una schifezza perché ci metteva o mettevamo il dito davanti all'obiettivo e quindi quando scattavamo veniva praticamente mezza faccia l'altra mezza c'era la manata e quindi sprecavamo un sacco di soldi invece in questo caso se voi andate a stampare delle fotografie che comunque è sempre bello tenere in mano e sfogliare perché vi giuro io era da non lo so da quanti anni che non tenevo in mano delle fotografie grandi o piccoli che siano fa sempre comunque piacere avere dei visi di fronte piuttosto che nello schermo del computer che tu dici sì vabbè ce li ho lì le sfoglio lì ma non è la stessa cosa ragazzi non è la stessa cosa avere delle foto in mano da sfogliare da passare anche alle bambine io mi rendo conto che loro sono felicissime di avere delle foto da guardare perché toccandole con mano sembra che i momenti siano più veri siano più reali e quindi non lo so ce ne sono alcune che veramente fanno ridere non ve le faccio vedere tutte perché alcune non sono veramente la qualità la qualità è molto bella guardate anche questa adesso la luminosità di questa foto è eccessiva però questo è stato proprio un mio errore di fotografia nel senso che era proprio la foto che era così le stampe loro quando le fanno sono sono assolutamente fedeli a quello che voi gli mandate ecco vedete sono proprio carine sono un amore e questo è un set da 30 mini mini istantanee che va a costare adesso lo cerco perché non me lo ricordo naturalmente più ne stampate e più avete uno sconto per pagare di meno mi pare che intorno alle 50 copie fossero il 15 per cento di sconto se ne fate 100 insomma c'è uno sconto ulteriore comunque se eventualmente voi state cercando un sito affidato affidabile e anche abbastanza economico anzi direi anche piuttosto economico dove andare a stampare le vostre fotografie che siano piccole grandi formato gigante formato poster che siano album la la lab stampa di tutto e di più io se vi interessa vi lascio qua sotto nell'info box il codice sconto che mi hanno dato appositamente per voi per tutti coloro che andranno a effettuare un ordine attraverso questo codice che io vi lascio è previsto uno sconto del allora uno sconto di 8 euro per i nuovi ordini per i nuovi clienti invece se siete già clienti di la la lab il 25 per cento di sconto per quelli che hanno già ordinato hanno già fatto ulteriori ordini quindi il codice sconto ve lo lascio sotto comunque ve lo scrivo anche qua è tutto maiuscolo mamma trattino basso tutto fare quindi facilissima sono io insomma se voi fate l'ordine e applicate questo 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 codice insomma vi comparirà direttamente lo sconto alla fine dell'ordine di 8 euro se il primo ordine oppure il 25 per cento se siete già clienti e fate degli ordini successivi insomma con questo non vi voglio dire che dovete andare assolutamente a comprare lungi da me vi sto solo dicendo che eventualmente vi servisse un servizio per stampare delle fotografie di qualunque formato siano in qualunque modo siano sia foto così sfuse che foto in album direttamente la la lab essa è assolutamente un sito super affidabile perché io vi dico la verità ho fatto l'ordine non mi ricordo se era mercoledì piuttosto che giovedì e le foto mi sono arrivate oggi che lunedì considerate che io sono in sardegna quindi è considerata dalle poste una località disagiata e abbiamo un giorno in più di consegna quindi sono veramente super veloci sono super precisi perché veramente non non ho da dire nulla e sono anche veramente e sono anche veramente tanto gentili ad offrire un codice sconto per tutti i miei follower un'altra cosa che mi hanno mandato insieme alle mini stampe e quest'altra bustina con all'interno un un giochino praticamente da grattare che si chiama loro lo chiamano il la la game ed è una cosina che inseriscono all'interno di tutti gli ordini credo e poi quando voi aprite la vostra applicazione con la la lab allora questo è l'inizio dell'applicazione in cui voi potete scegliere se andare a cliccare su fotolibri decorazioni pareti stampe fotobox calamite cartoline e buoni regalo allora adesso siccome dobbiamo andare a vedere se abbiamo vinto qualcosa entriamo su profilo e andiamo sulla la game allora il la game dice controlla bene l'ordine che ricevuto ci abbiamo messo dentro un gratto e vinci per te chissà se hai vinto andiamo a grattare inseriamo il codice la la game eccolo qua il nostro codice adesso andiamo inserirlo allora tutto maiuscolo la la 4 m n 9 scoprire il mio premio ho vinto un gatto una bellissima gif per allegra la tua giornata questa volta non hai vinto ma ci sono altre sorprese da scoprire con ogni gratta e vinci la la game ci vediamo per la prossima volta ok ragazzi tanto per cambiare non ho vinto ma non fa niente perché in realtà ho vinto ho vinto lo stesso vinto delle bellissime fotografie che adesso andrò a scegliere qualcuna la terra come sempre nella mia nel mio portafoglio le altre magari riuscirò a trovare un portafoto per appenderle in giro per casa perché sono veramente troppo troppo carine sono fatte benissimo vediamo se riesco a farvele vedere da vicino eccole qua guardate i colori che vengono sono troppo carini matti e lussi e le mie fashion girl guardate che colori ragazzi ok detto questo io ragazzi spero di esservi stata utile di avervi dato un'idea se avete necessità come vi dicevo di anche di fare un regalo semplicemente che ne so volete fare una sorpresa i nonni stampare qualche foto dei nipotini perché tanto sono sempre lì che ve ne chiedono e allora approfittate di la la lab di questo sito veramente bellissimo io vi mando un grande bacio ci vediamo al prossimo video ciao